Lunghissima stagione di Coppa del Mondo. Marius Lindvik adesso. Per la Norvegia, Lindvik è quattordicesimo in classifica generale. Lanciatissimo, Gronerud. Intanto vola Lindvik sulla misura del trampolino. Esattamente 235 metri per Marius Lindvik. Che dovrebbe andare in testa. Lanciatissimo, Gronerud. Gronerud dicevo, otto podi consecutivi. A partire da quello di Oberstdorf che ha dato la sterzata alla sua stagione. La vittoria a Oberstdorf nella prima tappa della tournée dei quattro trampolini. Da quel momento in poi soltanto vittorie e podi per Holborn-Egner Gronerud. Non va in testa Lindvik. 364 punti. Grazie mille.